Thor 5 si farà oppure meno? Proviamo a scoprirlo all'interno di questa dichiarazione rilasciata da Taika Waititi, il regista di Ragnarok e di Thor Love and Thunder, film che da quando sto registrando il video in questione è uscito da pochissimi giorni nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Allora, infatti, un giornalista durante un'intervista al regista ha chiesto se ci sarà un nuovo film di Thor dopo Love and Thunder, quindi Thor 5. Lui ha risposto dicendo che momentaneamente non ci pensa, ovviamente, perché è da poco uscito Love and Thunder, però se Chris Hemsworth vorrà e se la Marvel vorrà, lui ritornerebbe molto volentieri per dirigere Thor 5, dicendo che però vorrebbe ideare qualcosa che i fan non si aspetterebbero, quindi ipotizzo io, aggiungo io, qualcosa di completamente fuori di testa ancora di più di quello che si è visto in Thor Love and Thunder, che può piacere oppure meno. Quello, poi, sono assolutamente gusti, però sicuramente Taika Waititi ha fatto qualcosa che nell'MCU, almeno secondo me, non c'è mai stato. Questo livello di cringe, se così vogliamo dire, cringe voluto, non lo so, chiamatelo un po' come volete, umorismo infantile, film alascherimovi, insomma. Ma chiamatelo un po' come volete. Inoltre continua e finisce dicendo una cosa molto importante, che se ci sarà un Thor 5, lui vorrebbe tantissimo introdurre un certo personaggio. Però lui, ovviamente, nell'intervista non dice chi è il suddetto personaggio che lui vorrebbe tanto introdurre all'interno del film. Chi potrebbe essere? Potrebbe essere magari Beta Ray Bill, che nei fumetti è il vero possessore della Stone Breaker. Sarebbe comunque sia interessante vedere questo personaggio. Abbiamo già una ipotesi su quello che potremo vedere in Thor 5, in virtù del fatto della scena post-credit, la prima di Love and Thunder, quindi, spoiler, se non avete visto il film, nella prima vediamo Zeus, creduto morto, che in realtà non lo era, interpretato da Russell Crowe, che appunto manda, manderà il figlio, ovvero Ercole, alla caccia di Thor per ucciderlo, per catturarlo, per dargli una lezione, questo non lo sappiamo. Però abbiamo già più o meno una sorta di trama di Thor 5, Ercole che andrà alla caccia di Thor e compagni, però soprattutto Thor, ovviamente. Io poi ipotizzo che, secondo me, come nei fumetti sti due diventeranno una sorta di amici, ci sarà poi una tregua dove poi i due si allereano per far fronte a una minaccia comune. Un po' come Batman contro Superman, insomma, secondo me succederà un po' questo, speriamo fatto meglio di Batman contro Superman, e poi, perché no, potrebbe introdurre Taika Waititi, Beta Ray Bill, oppure un altro personaggio, ma io sinceramente non è che sia un grandissimo esperto di fumetti, anzi, assolutamente no, e quindi mi viene in mente solo Beta Ray Bill legato all'universo di Thor. Quale altro potrebbe essere il personaggio che Waititi vorrebbe introdurre legato a Thor? Non lo so, se non fosse Beta Ray Bill non mi viene in mente nient'altro. Quindi, io sarei aperto a Thor 5 perché Love and Thunder a me è piaciuto, poi se volete sapere meglio la mia opinione più nel dettaglio, trovate la recensione spoiler qui sul canale di Thor Love and Thunder, se siete nuovi. Detto ciò, io vi ringrazio, fatemi sapere la vostra opinione qui sotto in un commento se vi va, se vorreste vedere Thor 5 e se lo vorreste vedere sempre diretto da Taika Waititi. Poi la vostra risposta dipenderà molto se vi è piaciuto sia Lagnarok che Love and Thunder. E niente, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!